Molto autorevole, espresso dai relatori e non solo, comprenda che quella... No, rinuncia. Allora il senatore Centinaio. In questo momento stiamo discutendo, dibattendo su una proposta che l'ha sentito prevederebbe il fatto che questo provvedimento, questo disegno di legge... Ma noi non siamo per questo, perché noi siamo una forza riformista, siamo una forza che pensa, che ha dichiarato anche lei questa mattina. Ci sono forse alcuni fatti nuovi che potrebbero portare a una serie di criticità che è giusto far fuori, che è giusto alla risoluzione dell'Aula. E quindi per questo motivo riteniamo sia giusto effettuare un passaggio veloce in Commissione, Presidente, ma un passaggio che porti anche a dare quelle risposte che in questo momento... Scusi, no, per riportare di nuovo... Si tratta di ritornare in Commissione. Sì, no, io lascio parlare proprio per evitare che ritorniamo... E' proprio perché lo apprezzo, ritengo che lei l'abbia detto in modo sincero, e proprio perché penso che voi non avete paura dell'idea altrui, che un passaggio in Commissione, quelle ulteriori modifiche di cui parlavano i relatori, si torni in Aula e magari anche in modo più sereno si affronta un dibattito e si affronta una votazione che mi sembra di aver capito che sarà abbastanza lunga. Scusi, no, per risolverli nel miglior modo possibile. Ripeto, i relatori hanno detto determinate cose. È giusto che forse tutti inseriscono per arrivare a migliorare il lavoro sia del Governo che di quest'Aula. Non si fa ostruzionismo, non si fa...